Siamo i primi in Italia. Oggi vi comunico, ho parlato stamattina con il dottor Arcuri, che ringrazio, oggi noi finiamo tutti i vaccini. Il Veneto ha somministrato tutte le dose di vaccino anti-covid finora arrivate. Altre 40.950 sono attese entro la giornata per continuare le vaccinazioni a personale sanitario e nelle RSA. Noi consideriamo che al 25 gennaio avranno vaccinati tutti. Dai primi di febbraio in Veneto dovrebbe scattare la fase 2. Noi siamo già alla seconda iniezione a metà gennaio. Il presidente Zai in riunione con governo e regioni ha chiesto che si valuti un benchmark di efficienza, ovvero si stabilisca un limite di magazzino per i vaccini. Tu non puoi continuare a fornire vaccini a chi continua a fare magazzino e non gli inietta, perché sennò toglie una possibilità a chi ha bisogno di iniettare. Nelle prossime due o tre settimane dovremmo vedere qualche risultato di tutto questo lavoro sui vaccini. Ha sottolineato Zaia che nell'illustrare il bollettino giornaliero, guardando soprattutto la situazione negli ospedali, ha parlato di qualche segnale positivo. È pur vero che c'è un trend, lo stiamo vedendo anche nelle curve da due o tre giorni. Stanno aumentando le dimissioni rispetto alle prese in carico. Sembra sia un'inversione in tendenza, sottolineate dieci volte sembra. Noi speriamo diventi una tendenza e non sia solo un dato degli ultimi giorni. E domani nuova riunione del Comitato Tecnico Scientifico, chiamato come ogni venerdì a ridefinire le nuove fasce di rischio dopo aver analizzato i dati regionali, a partire dall'Arre Conti. Gira attorno all'1, meno 0,2, più 0,2. Adesso non sapremo ancora con esattezza. Di certo non abbiamo R Conti alti. Se qualcuno si aspetta un R Conti del Veneto, 1,10, 1,15, non c'è, non ci sarà. Se volete un'impressione proprio estrema, vedo improbabile che ci sia una zona rossa, per i dati che abbiamo. E intanto le regioni sono al lavoro per introdurre un altro parametro di valutazione. L'incidenza dei positivi su 100.000 abitanti. Ho la certezza matematica che verrà preso in considerazione, quantomeno non da questo bollettino ma dal prossimo.